Ciao a tutti gli appassionati dei miei manga, sono Alex, come sempre vedo su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Google Tag per stare sempre aggiornati, tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la prima impressione di Devil Lady, Eito da Gipo, prezzo 12€, manga di Gunagai, il Devilman al femminile, la nostra protagonista Jun Fudo, cognome che torna ovunque per Gunagai, è un'ex atleta olimpionica di nuoto, fa adesso la professoressa per un istituto superiore, ha lasciato il nuoto perché ha provato gelosia per un avversario che la stava sempre battendo e la gelosia stava diventando un istituto omicidio e quindi ha deciso di abbandonare e ha sempre convissuto, ha sempre sentito dentro di sé una specie di essere qualcosa che si agitava dentro di sé, finché, dando in vacanza con i suoi studenti, vengono attaccati dei pistelli giganti e viene morse la testa, c'è un altro gruppo in parte di studenti di un altro istituto che fanno Judo, che vengono morse e attaccati anche loro con questi pistelli e di sera questi studenti si trasformano in bestie, bestie davvero terribili, che divorano gli studenti maschili, cercano di stuprare e alcuni stuprano anche le studentesse e la stessa John Fudo, però si trasforma, qualcosa dentro di lei si muove, una rabbia che ha dentro di sé si muove e si trasforma in Devil Lady, basata ovviamente molto su Devilman, parecchio su Devilman, faccio vedere che all'interno prima pagina c'è un poster, quindi questa Devil Lady, vogliamo anche dietro uno, e quindi riesce a estermina tutti, poi farà conoscenze di Ran Asuka, una normale ragazza, che gli spiegherà che è stata lei con suo padre a farla trasformare in un Devilman, perché dentro le persone, molte non tutte, c'è un fattore beast che lo fa evolvere un'evoluzione segreta, basata sulla forza e non sulla mente, sul cervello, e però questa evoluzione porta sia una forza bestiale, ma ha perduto la ragione e quindi attraverso delle medicine particolari che sono state sommistrate fin da piccola, riesce a trasformare, inibire questo fattore beast e riuscire a controllarlo per trasformarsi in un Devilman, in questo caso Devil Lady, che combatterà, distruggerà tutti questi esseri oscuri e cercherà di proteggere la terra e magari trovare qualcun altro compatibile per diventare un nuovo alleato. Lei all'inizio è una ragazza semplice, anche se ha delle pulsioni che ora si spiega perché gli vengono, pulsioni sessuali, quindi è un manga, come sapete, con una guy molto splatter, ma anche a sfondo, non dico sfondo sessuale, però scene abbastanza capibili, molto hard. E all'inizio proprio è una ragazza normale, ha quasi paura di sta cosa, comunque non vuole uccidere le persone anche se si sono trasformate perché pensa che possono essere sempre salvate in futuro, però farà contro la tragica realtà dei fatti e dovrà fare delle scelte e a volte anche non può neanche scegliere perché dovrà scegliere tra la sua vita o quella del suo guzzino o salvare qualcun altro, quindi sarà spesso obbligata a doversi trasformare anche se non vorrebbe questo potere. Poi incontra il suo padre che è andato in America, ha un fratello e piano piano arriveranno altre di queste bestie che appunto cercheranno di, non solo di divorarla, perché ha queste pulsioni, queste bestie di devil best, di divorare gli esseri umani, ma anche pulsioni sessuali, di piantare i loro semi in giro, sparsi un po' qua, un po' là. I devil best non sono solo maschili, in momenti ci saranno anche quali femminili. E quindi è ovvio che molto riferimento a Devilman che è un manga degli anni 70, questo è un manga fino agli anni 90 circa, e quindi 30 anni dopo infatti qua si fa riferimento a Devilman, però a Devilman visto non come qualcosa di reale veramente successo, ma come appunto un manga, cioè nel senso qua si parla di Devilman come il manga, come una storia di racconti e basati, e quindi i nomi vengono, traggono ispirazioni a detta degli stessi protagonisti da quel racconto, che è lo stesso autore ovviamente, quindi si fa autopubblicità da solo, Gonagai, anche se non avessi bisogno perché Devilman è il suo manga più famoso, oltre poi per Mazinga Z eccetera eccetera, però diciamo che Devilman è quello che ha dato la notorietà, la visibilità, quello che l'ha messo nell'olimpo dei mangaka, però è ovvio che ci sono parecchi riferimenti, vorrei far vedere qualche immagine ma non posso farle vedere, perché sono immagini molto o forti o hard, e quindi qua lo spiegone scientifico basato su DNA delle cellule, su DNA dei mitocondri, che vi lascio scoprire a voi questo spiegone, magari alcuni, è un po' noioso oppure magari difficile da capire, però vi lascio anche a voi che, almeno qua cerca di spiegarle, non gli dà la spiegazione di Devilman, cioè qualcosa di misterioso, ancestrale, mitologico o mitico, qua gli dà qualcosa, una connotazione scientifica, quindi ha questa differenza, diciamo che ha questa differenza, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video.